Saluto a tutti gli amici di androidare.it di Adriano oggi andiamo a vedere come installare una pellicola in vetro sul nostro smartphone in particolare io oggi vi farò l'esempio sul mio Samsung Galaxy Note 4 e la pellicola che andrò ad applicare è una Nilkin acquistata su Amazon è la Nilkin H+, lo faccio vedere, ecco qua è una delle pellicole più dure in assoluto quindi una pellicola che dovrebbe essere esente da graffi andiamo subito ad aprirla vedete già la grande qualità della confezione della Nilkin quindi l'apriamo e cosa troviamo al suo interno? al suo interno troviamo la pellicola vera e propria molto sottile 0.3 mm due pellicole, eccole qua, piccoline per il vetrino della fotocamera posteriore quindi una pellicola poco flessibile con uno strato oleofobico sul frontale poi abbiamo una fascetta elettrostatica per togliere tutti gli eventuali residui sul display ora vi farò vedere come funziona una normale pezzolina tipica degli occhiali abbiamo due di queste che non sono altro che delle pezzoline per andare a pulire il display ora vi faccio vedere come vediamo che c'è l'1 e il 2 quindi dovremmo usare prima questa e poi questa questi due servono in casi estremi se magari non riusciamo a mettere bene la pellicola quindi magari la mettiamo un po' sorta o altri casi con questi due con questi due l'applichiamo sulla pellicola ecco qua applichiamo la parte bianca sulla pellicola e alziamo la pellicola in questo modo in più ci sono le istruzioni in inglese e in cinese su come applicare la pellicola quindi andiamo avanti togliamo questo qua e prendiamo il nostro telefono prima di tutto lo andiamo a pulire da eventuali residui ovviamente è un'operazione che va fatta nella massima pulizia il display deve essere praticamente perfetto io lo guardo in controluce perché vedete che ho una luce lo guardo in controluce e non ci dovrebbero non ci dovrebbero essere problemi prendiamo la fascettina blu la stacchiamo scusate io mi metto dietro la telecattina altrimenti sono un po' scomodo perché questa è sempre difficile da staccare eccola qua è una pellicola molto sottile l'applichiamo in vari strati facciamo questo lavoro qui l'applichiamo e la togliamo dobbiamo cercare di farlo su tutta la superficie questo non fa altro che togliere eventuali residui microscopici o di sudore ecco qua c'è un piccolo dobbiamo cercare di farlo un po' ovunque dopo aver fatto questa operazione apriamo la bustina numero 1 eccola qua questa è una un fazzolettino praticamente leggermente imbevuto infatti è umidiccio andiamo a pulire tutto il display lo puliamo sempre alla perfezione anche se rimangono un po' di residui di questa pezzolina non vi preoccupate anzi forse è meglio che rimanga qualche residuo togliamo questa passiamo all'operazione più complicata che sarebbe quella di mettere la pellicola apriamo la pellicola eccola qua al contrario delle pellicole tradizionali che hanno il lato 1 e il lato 2 questa qui ha solo il lato 1 vedo ancora qualche residuo ok in trasparenza sembra che sia tutto a posto quindi lato numero 1 togliamo la pellicola del lato numero 1 eccola qua e qui dobbiamo fare molta attenzione dobbiamo essere precisissimi nell'applicare la pellicola non l'applicate subito prendete le misure vi dovete mettere esattamente sopra vi consiglio di farlo con queste due dita e con queste due dita e ora vi spiego perché cercate di avvicinarvi il più possibile al display io penso di essere abbastanza perfetto scusate se mi sposto ma dovevo essere esattamente sopra una volta che siete sicuri premete al centro ed ecco qua guardate come si applica praticamente da sola guardate ecco qua in caso dovesse rimanere bolle come è quasi ovvio che sia eccola qua basta premere un pochettino verso l'esterno premete tutti i bordi premete tutti i bordi ed ecco qua applicata la pellicola prima di finire non è finita busta numero 2 aprite la busta numero 2 pulite premendo fate questa operazione premete sempre verso l'esterno se vedete bordi che non si sono appiccicati tipo questo qua se guardate qui in alto non si è ancora non ha ancora aderito perfettamente non vi preoccupate perché con il passare delle ore aderirà perfettamente ecco qua abbiamo montato la nostra pellicola in vetro come vedete sui bordi rimangono tipo un paio di millimetri forse anche più diciamo 4 mm questo perché quando andiamo a mettere una custodia che ricopre i bordi la custodia non va ad intaccare la pellicola in vetro quindi ecco il mio note 4 con la pellicola in vetro vi faccio vedere da questo lato si vede leggermente il gradino della pellicola ovviamente scusate tolgo non va ad influire o ad inficiare il touch vi faccio vedere anche la S Pen che dovrebbe essere quella che magari perde un pochettino in realtà no perché vedete Adriano non perde nessun colpo quindi pellicola in vetro consigliatissima non avrete problemi in caso di cadute graffi non si sa mai meglio graffiare la pellicola in vetro da 15 euro che graffiare il display uno splendido display in questo caso di Note 4 per androidare.it spero di esservi stato utilissimo in questa guida un saluto a tutti da Adriano